Ciao a tutti ragazzi e ragazze, come state? Oggi mi sono fatto, cioè ieri sera mi sono fatto le unie, di qua ho messo, dalla videocamera sembra rosa perché, scusate, ho rosa sui, in realtà è arancione fluo, vabbè è arancione fluo, non è il colore della fotocamera, di qua invece sì più o meno, è l'azzurro un po' più scuro e il giallo è così diciamo. Ok, spero che mi durino, stranamente è la prima volta che li faccio, ho messo un top coat ed è la prima volta che quando dormo non mi viene via lo smalto, perché di solito dormo e mi viene tutto lì, scusatemi. Ok, ah non vedete le borse perché oggi vi faccio vedere tutte le mie borse, ho fatto un video sette anni fa dove vi mostravo le borse di mia mamma, cioè figuratevi, sette anni fa, e io non ve le ho mai mostrate invece. Vi mostro tutte quelle che ho, ah e ho anche una borsa che ho abbinato, in abbinato il portafoglio e il portatessere, ve lo faccio vedere e vi faccio vedere anche che portafoglio ho adesso, perché ne ho solo uno, perché uno mi si è rotto perché si è bagnato, si è aperto in due. Boh, era di stradi vario, insomma era bellissimo il metodo di apertura. Ah vai, chiudo la porta, poi viene qua e si lamenta che ho chiuso la porta, vabbè. Ah, mi sono anche truccato, questo è un rossetto di Deborah e sugli occhi ho la solita palette di Makeup Revolution. Partiamo. Ah, volevo dirvi che vi faccio vedere tutte le borse in generale, sia quelle che ho, che uso principalmente tutti i giorni, o comunque se devo fare qualcosa di importante metto queste per dare nell'occhio, insomma. E poi ho invece quelle belle a cui tengo che, sì lo so, ho fatto apposta queste due macchie rosse, sono volute, cioè non sono riuscito a sfumarlo, ma sono anche volute, volevo fare quell'effetto eye. E poi tutto così, vabbè, andiamo avanti. Poi trovo, scusatemi, trovo che con questo trucco i miei occhi spicchi ancora di più il verde dei miei occhi. Comunque, vi faccio vedere quelle che ho risolto. Ah, io ho borse di basso costo, sì, principalmente sono di basso costo e quelle di, no, sono sempre di basso costo, medio costo sono borse da 2, 3, 400 euro, non ne ho. Ce n'è una che mi piace tantissimo, che è di Michael Kors, la vorrei troppo, ma costa, cioè adesso è scontato a 150 euro, quindi, cioè, per una borsa è tanto, però voglio dire, per uno spizio si potrebbe fare, ma. Sto cercando di rinunciare a utilizzare le mie, a vedere se mi sento a mio agio così, e devo dire che me ne frevo anche un po'. Quando le compravo invece no, mi sentivo sempre osservato adesso. Allora, tanto la gente ha da parlare sempre, che tu sia un mega genio, o che tu sia il più pirla, ha sempre da dire qualcosa, che tu sia alto, magro, basso, bello, brutto, ha sempre da dire qualcosa. Quindi, allora, vi faccio vedere quelle che uso di solito tutti i giorni, sono tutte e due di questo brand, boh, io lo trovo da pittarello. NBG, queste di solito le uso, o da tutti i giorni, oppure quando vado in viaggio, perché sono comode, perché hanno la tracolla lunga, perché io essendo grosso, appunto, Ah, ho sempre la stessa maglietta del pigiama, perché faccio i video di mattina e sono in pigiama, non c'ho voglia di cambiare, cioè mi cambio quando devo portare giù i cani dopo. Quindi, ehm, questo qui ha una bella tracolla lunga e si può allungare ancora di più, quindi anche se siete belli alti, secondo me va bene. È comodissima perché ha una cerniera qua piccola che io di solito, quando sono in viaggio, allora, quando non sono in viaggio ci metto le chiavi di casa, però quando sono in viaggio ci metto tipo il biglietto della metropolitana, o del pullman, e così. Questa che mi si è rotto, mi si è staccato il pezzettino, di solito qua metto o la, una salvietta, perché quando vado in giro, che viaggio non mi trucco, perché mi piace avere la, la pelle bella libera, non mi sono truccato per questo video, ogni tanto mi piace farlo. E ci metto la salviettina per asciugarmi, o dei fazzoletti, o così. In quella grande ci metto il portafoglio, il portafoglio, eccetera, qua ci sono volendo anche altre taschine per cose di sicurezza, e di solito qua dietro, perché è più comodo da prendere, ci metto il telefonino. E questa è la prima che ho di NBG. Poi un'altra che ho di NBG, è questa qui che l'ho comprata, cioè prima di quella lì, ed è questa. Perché questa è via, non la sto usando, è via, quindi è al minimo adesso, ma potete portare la spalla, ma poi diventa anche a tracolla. E questo qua, anche questo qua l'ho usato a porto, e poi l'ho usato anche qui. Idem, quella piccola, chiavi, tessere, così, se sono in viaggio le chiavi stanno in hotel, ovviamente, però c'è le chiavi di casa, mi edito. E qua, tutto il resto, insomma. Ok. Passiamo, passiamo a quelle da viaggio, dai, così ti tengo un po' in sospeso. Sai che è sospeso. Per me sono tutte carine. Allora, da viaggio. Questa qui che ho comprato da Francia, ah, mi dispiace, ma mi sa che appunto la maggior parte non le trovate più. Solo una cosa potete trovare ancora, perché è lo zaino di, che vi faccio vedere dopo. Quanto mi piace sto color peonia, guardate. Allora, andiamo avanti. Allora, questo qua di Harry Potter è un po' in polvere, cioè, lo, scusate, l'ho spolverato tre giorni fa. Però là, in effetti, scende molta polvere da quell'angolo. Non chiedetemi perché. Comunque, questa qui l'ho usata quando sono andato a Dublino con mia mamma, e basta. Ho usato solo in quell'occasione lì. Perché o la portate così, o se no, l'ha tracolla, ma da spalla, ed è un po' corta per me. Ve la faccio vedere. Così è al massimo. Se la mettete a tracolla, vi arriva, e non vedrete mai, comunque la tracolla arriva un po' corta. Invece a spalla, a spalla arriva la giusta mia misura. Solamente che io a spalla sono scomoda a portare le cose così. Cioè, a me piace di solito avere le mani liberi. Io ho le spalle che pendono, quindi, vabbè. Ah, io ci metto sempre, in queste qui, che ci tengo tanto, comunque, che non uso spesso, ci metto sempre la carta per farle tenere in forma, insomma. Questa non ha nei cernieri a niente, è una grande, poi ha queste due taschine. Qui ci metto il telefono e di solito di qua ha biglietti o così. Poi si chiude con... Mi piace perché sembra, tipo, una cartella d'altri tempi. Mi piace per quel motivo, lì è carina. Non so neanche io dove mettere la roba. No, perché se metto lì, da lì entra la luce. Vabbè, basta, le faccio così poi. Un'altra che ho usato a Dublino, questo è un bagaglio... Questo è il bagaglio a mano, cioè, proprio, le misure sono perfette come bagaglio a mano. E ha questo bello spazio qua sotto. E vi dico solo che qui ci sono stati i miei vestiti e poi ne avevo riempito di libri. Quindi immaginatevi voi io andare in giro alla tracolla, anche questo. Questa cosa qua piena di libri, cioè, tipo, saranno stati non so quanti chili perché non c'è... Vabbè, questo qua, la cerniele, poi è tutto unito. Non vi faccio vedere la tracolla perché è sotto tutto, quindi... Comunque è dello stesso colore. E qua c'è scritto Hogwarts Railway, proprio of Hogwarts. Vabbè, molto carina secondo me. Comunque ve lo consiglio come bagaglio a mano. Cioè, se vi trovate meglio con qualcosa che tenete, piuttosto che il trolley. Il trolley è molto più comodo, ovviamente, però... Se volete qualcosa di economico, ve lo consiglio. Poi, un altro che uso per i viaggi, di solito questo qua... Di solito, no, l'ho usato solo una volta, purtroppo. Oddio, sto sudando, oh mio Dio. Vabbè, scusatemi, stavo dicendo. L'ho usato solo una volta per andare a Marsiglia. Ed è questo zaino qui. Scusate, non mi ricordo i litri. Credo... 15 litri. Non è la versione più piccola di tutte, ma non è neanche grande. Cioè, nel senso, quella media, vediamo. Sì, è quella così. Poi vi mettete... Ne mettete questo qua e basta. Ha anche il laccio qui, se siete magri, quindi. C'è per la... Come si dice, per la vita. Cioè, se siete invece come me, ha questo spazio comodissimo, potete infilare dentro. Vabbè, questo qua, ve l'avevo già fatto vedere, ha una grande tasca grande, ha due portabottiglie qua da parte, una taschina più piccola e all'interno una tasca dietro e un'altra tasca davanti. È bellissimo. Altro che ho usato a Marsiglia, alcuni li ho buttati e non li avete mai visti. Due, di una marca, non mi ricordo come si chiamava quella marca, ma... Mi devo scrivere, scusatemi. Bitterò da lavare... Bitterò poi da lavare questo. Vi stavo dicendo, di una marca che... Vabbè, quegli zaini che si compattano tutti diventano piccolini, ne ho uno simile. Questo qua è di Tiger. Ecco, erano di questo stile, ma li ho dovuti buttare. Vabbè, qui comunque ho questa borsetta, perché io di solito mi porto lo zainone grande, ok? Che di solito dovete metterlo sopra, nella cappelliera del pulmono, ok? Invece la borsetta piccola, questa o quelle altre due, dipende quale voglio portare, perché questa qui è carina e comoda. Ha anche un porta... Un borsellino a parte che potete... O potete inserirlo qui, oppure se non siete sicuri di metterlo dentro, come faccio io. E vabbè, ha tre scomparti, uno grande, questo che potete rimuovere e questo. Questo di Prana e Marco, non so se ce l'hanno ancora. E questo lì, quello lì. Vi stavo dicendo che lo zaino grande lo dovete mettere lì. E poi invece la borsetta e le cose più importanti avete... Come si chiama? La retina di Desseville, ok? Andiamo avanti. Questo qua ve la mostro, anche se questa è più una chopper di tela. Ma è una volta usata come brossetta perché mi piace. È di Another Story di Bergamo. È fallito a Bergamo, non c'è più Another Story, non so, è durato un anno forse, va bene? Si vede che il gusto chic non piaceva a nessuno. No, a me piaceva tantissimo. Se ci fossero state le taglie avrei comprato di tutto. Dunque questa qui, una chopper, potete portarvela o a spalla, se siete magri, oppure così. Oppure potete fare una modifica se preferite. Cioè, se avete delle chopper di questo stile, non per forza questa, di questo stile che vi piacciono, potete andare tipo in Sartoria o così, chiedere se hanno delle fettucce belle spesse, così. Oppure una bella stoffa, ve le fate voi lunghe, della vostra misura. Potete, potete anche aggiungere la cerniera. Potete fare tante modifiche, a me piace così semplice. Sicuramente perché non saprei come fare, ma se voi siete capaci. Ok, un altro che ho è questo, sempre per i viaggi. Questo qua di solito lo metto se è pieno lo zaino grande. O quando sono andato a Marsiglia, qui ci ho messo dentro il cibo. Ok? Perché piccolino piccolino, qui c'è un volo di una taschina, vabbè, così che si chiude. Piccolino, si tira qua, potete portarvelo a mano, oppure mettervelo qua così. O se siete comodi, addirittura zainetto, ma io avevo quello grande, quindi questo qui. E' un di più. Cioè, se avete proprio qualcosa in più, o del cibo, o non lo so, un cambio o qualcosa, potete. Cioè, vi mostro questi tre. Ah, quello lì ve l'ho detto, questo. Mi sembra da Tiger l'ho preso, non vorrei dire bagianateli. Poi io ho questo qua di Dublino, che è un borsellino. Borsellino con i cagnolini, abbinato a questo con i cagnolini. Questo qua di solito, io ho dei problemi alle cosce, ai piedi, e così, ok? Quindi ragazzi, non mangiate tanto, cioè, mangiate giusto. Se no vi vengono i problemi. Quindi qua metto la crema antistergamento, la crema per il gonfiore, la crema del prune, non lo so, quello delle zanzare, un burro cacao, una crema manica, capito? Quindi metto il necessario, soprattutto quando viaggio in Pullman. Perché di solito in aereo non mi porto niente per paura che mi buttino via qualcosa, anche se so che ci sono le misure così, ma per prevenire meglio che curare, non mi porto niente, prendo tutto là tanto, shampoo, basso, ce l'hanno tutto. Il dentifricio lo trovo in giro, non sono spacciolino, quindi non sono quei tre euro lì che mi rovinano il budget della vacanza. Quindi questo qua. Certo, se siete quelli fissati con la skincare tutti i giorni, è un po' più dura la faccenda. Comunque questi qua sono carini. Poi una, passiamo alle borse fashion. Cioè fashion, io le chiamo così, poi non è che... Scusatemi, ma veramente... C'è stato fresco una settimana e sta tornando il caldo. Odio, odio, odio. Mi sono messo così perché non vedo l'ora che finisca l'estate, quindi questi qua sono gli ultimi momenti per sfruttare questi colori. Poi non è vero, chi se ne frega, uno mette i colori che vuole. Fischi, siamo già 15 minuti. Vabbè, ho questa qui piccola DJ Lo con più asparto. Allora, se amate le mini bag, questa è perfetta. A me non ci sta niente. Cioè, non mi ci sta neanche il telefono. No, decisamente neanche il telefono. Ma neanche per così, né per che tale. Cioè, proprio... Qui non so. Non so a cosa possa servire. È solo una seconda borsa di bellezza, secondo me. L'avevo presa, sapete per cosa? Per metterci dentro la Polaroid. Sì, duvalle. Non ci sta per me. Ok. Poi ho questo bellissimo. Questa qui, allora, questa qui è pretta... No, ho cose che io reputo prettamente estive. Alcune invernali, alcune per niente. Cioè, perché uno le usa quando cavallo vuole. Questa qui, secondo me, è abbastanza estiva. Ok. E ha una cerniera dietro. Ha una cerniera sopra. Poi all'interno ha due scomparti. E una terza cerniera qua dentro. Dove ho la tracolla che è fatta così in tessuto. Abbastanza lunga, non troppo. Il borcellino abbinato. E una porta tessere o anche banconote, perché c'è anche due spazi per la banconote addirittura. E molti spazi per le tessere. Questa qui è però proposta per le monete e questo per il resto. Se vi interessa, vendola, la rivendono al coin a Como. Non vi so dire altri posti dove la rivendono. Perché Alecco ha chiuso e aperto quella schifezza di H&M. Andiamo avanti. Ce la posso fare? Andiamo avanti. Cioè, schifezza. Non volevo insultare H&M, ma nel senso io preferivo coin. rispetto ad H&M. Poi, ho questa bellissima che, questo è fallito il negozio, credo, proprio la catena. La vendevano da segue al Globo. Figuratevi voi quanti anni fa. Beh, qui, per chi non è delle mie parti, vabbè, il Globo è un centro commerciale che c'era qui. Segue, però comunque era una catena, quindi... Magari da voi c'è ancora, non lo so, scrivetemelo nei commenti. Perché aveva delle cose davvero carine. E ho questa qui. Questa qui, secondo me, è molto invernale, ma dà quel tocco urbano, chic. Mi piace un casino. Anche questa, la tracolla, basta. È semplicissima. È fatta così a boletto. E dentro ha solo questa classica taschina qui nella fodera. Sì, e basta. Quella classica taschina nella fodera. E ha due cerniere. Non so se voi preferite una cerniera o due cerniere. Siamo indifferente. E questa qui, appunto, era in collaborazione con Tokidoki. Troppo carina. Non vedo l'ora che arrivi ottobre per usarla. Perché questa qui, secondo me, ottobre, novembre, dicembre, è fantastica. No, più che... Dicembre no, dicembre non tanto. Secondo me è più da ottobre, novembre, gennaio e febbraio. Secondo me è fantastica. Insomma, tranne il periodo delle vacanze natalizie, ovvero per me tutto dicembre è un pezzo di gennaio. Poi ho questa qui. Mi piace tantissimo, ma è un po' piccolina. Io che sono abituato a portarmi sempre dietro dai libri da leggere. Se non leggete, questa va benissimo. Se non leggete, se non avete figli, se non avete i cani da portare a spasso, questa è perfetta. Io la trovo più serale, però secondo me può essere usata in qualsiasi momento della giornata. Ha la tracolla di pelle e poi ha una cosa bellina. Ha una taschina con la cerniera qui e una taschina normale. Poi ha questo. Io l'ho comprata per questo. Voi la legate qui e ve la portate così. Io la adoro. Mi piace tanto. E questa è di Parfois. Poi ne ho due di Aldo. Si vedete io ho varie brand, varie cose. Questa qui l'ho usata due giorni. Due giorni a esagerare quest'anno pochissimo l'ho usata. Ed è di questa qui con le righe, il fiocco qui come volete. E con le rifiniture un cuoio, un finto cuoio e un lucchetto qui finto di bellezza. Questa mi piace davvero tanto, due giorni e anche, o no, mi sembra di sì, scusatemi eh. Sì ce l'ha la tracolla. Ce l'ha no perché non vedevo, non vedevo gli agganci qualaterali ma perché vanno agganciati appunto uno di qua. C'è qui sulle mani. E una delle mie preferite. Questa l'ho sfruttata due settimane forse, non quest'anno, un po' di tempo fa. Ed è questa qui di Aldo. Con tutte così. Qui è macchiata. Non so perché. Ha la cerniera dietro che io la trovo molto comoda le borse con la cerniera dietro. Questa si apre semplicemente così e dentro è completamente liscia. ha la classica cerniera di sicurezza. Così. L'ultima, che poi vi devo salutare, quindi mi raccomando mettete mi piace al video, commentate tutto, quello che volete, che borse avete. E questa è quella che sto usando adesso. È di Carpisa, con questo canone, magari si fuma a sigara. Potete portarla sia a tracolla. che a zainette ovviamente sono regolabili. Qui c'è questo cuoricino. E ha una tasca sul davanti, dove ho dentro le mascherine, perché a questo periodo purtroppo sapete com'è. E qui ho una tasca grande, dove c'è una cerniera. E qui tengo il mio portafoglio. Questo qui di Parfois mi piace tantissimo come è fatto perché è fatto così. E qua, qui altre ho scomparti, altre ho scomparti e qui tre ho scomparti per le monete. che io mi piace perché divido gli 1, 2, 5 centesimi da quelli altri portatessere. Questo per il motivo che se si suda, ok. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo, ciao!